L'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini L'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini Capitolo 1 Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai Santi che sono in Efeso ed ai fedeli in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia di Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili di l'ansia a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacido della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, della quale Egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza col farci conoscere il mistero della Sua volontà, giusta il disegno benevolo che Egli aveva già prima in sé stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. In Lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di Colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo all'ode della Sua gloria noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo avere udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il sugello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, all'ode della Sua gloria. Perciò anche io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai da rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, qualsia la ricchezza della gloria della Sua eredità nei santi, e quale sia verso noi che crediamo l'immensità della Sua potenza. La qual potente efficacia della Sua forza Egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità e podestà e signoria, e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Ogni cosa Egli gli ha posta sotto ai piedi e l'ha dato per Capo Supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Capitolo 2 E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della podestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificato con Cristo, e Gli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali i Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, al fine di creare in sé stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace, ed al fine di riconciliarli ambe due in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di Lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso, la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Capitolo 3 Per questa cagione io, Paolo, il carcerato di Cristo Gesù per voi, o gentili, poiché senza dubbio avete udito di quale grazia e Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo. Il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che i gentili sono eredi con noi membra con noi d'un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio largitami secondo la virtù della sua potenza. A me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose affinché nel tempo presente ai principati e dalle potestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù Cristo nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui perciò io vi chiedo che non veniate meno nell'animo a motivo delle tribolazioni che io patisco per voi poiché esse sono la vostra gloria per questa cagione dico io piego le ginocchia dinanzi al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome perché Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori affinché essendo radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qualsia la larghezza la lunghezza l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio ora a colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli Amen Capitolo 4 Io dunque il carcerato nel Signore vi esorto a condurvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine con longanimità sopportandovi gli uni gli altri con amore studiandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace V'è un corpo unico ed un unico spirito comeppure siete stati chiamati ad un'unica speranza quella della vostra vocazione V'è un solo Signore una sola fede un solo battesimo un Dio unico e padre di tutti che è sopra tutti fra tutti ed in tutti ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo egli è per questo che è detto salito in alto egli ha menato in cattività un grande numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini ora questo è salito che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa ed è lui che ha dato gli uni come apostoli gli altri come profeti gli altri come evangelisti gli altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi per l'opera del ministerio per la edificazione del corpo di Cristo finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le genture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore questo dunque io dico ed attesto nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri con l'intelligenza ottenebrata estranei alla vita di Dio a motivo della ignoranza che è in loro a motivo dell'induramento del cuore loro essi avendo perduto ogni sentimento si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità ma quanto è a voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo seppure l'avete udito ed in lui siete stati ammaestrati secondo la verità che in Gesù avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità perciò bandita la menzogna ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri adiratevi e non peccate il sole non tramonti sopra il vostro cruccio e non fate posto al diavolo chi rubava non rubi più ma sa fatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani onde abbia di che fare parte a colui che ha bisogno nessuna mala parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta e non contristate lo spirito santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione sia tolta via da voi ogni amarezza ogni cruccio ed ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di malignità siate invece gli uni verso gli altri benigni misericordiosi perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo capitolo 5 siate dunque imitatori di Dio come figliuoli suoi diletti camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave ma come si conviene a dei santi né fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia neppure nominata fra voi né disonestà né buffonerie né facezzi e scurrili che sono cose sconvenienti ma piuttosto rendimento di grazie poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro che è un'idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio nessuno vi seduca con vani ragionamenti poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli non siate dunque loro compagni perché già eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore conducetevi come figliuoli di luce poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità esaminando che cosa sia accetto al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre anzi piuttosto riprendetele poiché egli è disonesto pure di dire le cose che si fanno da costoro in occulto ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste poiché tutto ciò che è manifesto è luce perciò dice risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce guardate dunque con diligenza come vi conducete non da stolti ma da savi approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi perciò non siate disavveduti ma intendete bene quale sia la volontà del Signore e non vi nebriate divino esso porta alla dissolutezza ma siate ripieni dello spirito parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore rendendo del continuo grazie di ogni cosa Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo mogli siate soggette ai vostri mariti come al Signore poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa egli che è il Salvatore del Corpo ma come la Chiesa è soggetta a Cristo così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amata la Chiesa e ha dato se stesso per lei al fine di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola al fine di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa senza macchia senza ruga o cosa alcuna simile ma santa ed irreprensibile allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi chi ama sua moglie ama se stesso poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne anzi la nutre e la cura teneramente come anche Cristo fa per la Chiesa poiché noi siamo membra del suo corpo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne questo mistero è grande dico questo riguardo a Cristo ed alla Chiesa ma d'altronde anche fra voi ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito capitolo 6 figliuoli ubbidite nel Signore ai vostri genitori poiché ciò è giusto onora tuo padre e tua madre è questo il primo comandamento compromessa affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra e voi padri non provocate ad ira ai vostri figliuoli ma allevateli in disciplina e in ammunizione del Signore servi ubbidite ai vostri signori secondo la carne con timore e tremore nella semplicità del cuore vostro come a Cristo non servendo all'occhio come per piacere agli uomini ma come servi di Cristo facendo il volere di Dio d'animo servendo con benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini sapendo che ognuno quando abbia fatto qualche bene ne riceverà la retribuzione dal Signore servo o libero che sia e voi signori fate altrettanto rispetto a loro astenendovi dalle minacce sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che dinanzi a Lui non ver riguardo a qualità di persone del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza rivestitevi della completa armatura di Dio onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le podestà contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo avere compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi state dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spengere tutti i dardi infuocati del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio orando in ogni tempo per lo spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazione ed a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per i santi ed anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente per fare conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono ambasciatore in catena affinché io lo annunzi francamente come conviene che io ne parli ora affinché anche voi sappiate lo stato mio e quello che io fo Tichico il caro fratello e fedele ministro del Signore vi farà sapere tutto ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro ed egli consoli i vostri cuori pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo la grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con purità incorrotta grazie a tutti